buongiorno buongiorno a tutti carissimi bentornati in questo spazio di riflessione di condivisione di un sacco di domande quindi oggi rispondiamo ad una di questi sacchi di domande parentesina rispondo alle domande che trovo utili per tutti e che mi ispirano qualcosa quindi coloro che tendono un po ad arrabbiarsi ti ho scritto dieci volte non mi rispondi provate ad andare in un bar e dire ti ho chiesto dieci volte un caffè e non me l'hai dato e ovviamente entrate e dite appena entrate non pagherò nulla dammi un caffè te l'ho chiesto dieci volte vuoi che ti meno ecco non è che non ha molto senso questa cosa quindi rispondo alle domande che sento che mi piacciono e che possono essere utili un po per tutti e coloro poi che sono arroganti che si arrabbiano figurati proprio mi creano una sorta di orticaria e oltretutto rispondo proprio in maniera libera a prescindere che una persona abbia donato qualcosa dato un contributo non dato è un fatto più di di cuore di se c'è feeling ok bene qua nessuno chiede nulla non c'è niente di obbligatorio è tutto libero chi vuole certo da una mano ma queste persone che pretendono e si si arrabbiano sono incredibili qualcuno mi dice ma non sta neanche badare no ci tengo a fare un po la sottolineatura perché magari si accorgono perché ormai è pieno ma non questo ovunque voi andate un po in giro magari è solo la discussione per un parcheggio per un biglietto di qualcosa è pieno di persone che ritengono che l'universo debba muoversi intorno a loro e io credo che questo sia una delle cause di infelicità di sterilità e anche di un po stupidità che tutti elementi che stanno generando questo mondo bene la domanda si divide in due parti sono entrambe belle prima parte della domanda l'amico chiede bastano video approfondire video che trovo belli in rete che parlano di spiritualità eccetera o secondo te fondamentale anche la lettura di testi come molte volte suggerito ecco un po un po la risposta viene così da chi c'è proprio di primo chito dovrebbe emergere la seconda parte in un video parlavi di come una persona atea possa essere più spirituale di una persona che si definisce credente ecco possiamo approfondire questo aspetto bene i libri sono un'altra cosa rispetto al video secondo me completano il lavoro il video segue l'immagine magari la mimica facciale della persona passa cose in più magari ci attrae o ci infastidisce ci sono tanti aspetti ad esempio un autore ti può piacere poi lo vedi parlare e ti viene male una persona ti piace quando parla poi leggi come scrive e ti viene male ecco ci sono tantissimi elementi che si intersecano soprattutto se è lo stesso soggetto che parla e che scrive ma la domanda è un po più generica ad esempio se tu trovi utili questi video significa che ti interessano questioni di cosa parlo io devo ancora capirlo diciamo filosofiche psicologiche boh è pieno di testi meravigliosi quindi anche se qui c'è scritto non ho mai avuto un grande feeling con la lettura allora o è una sorta di di blocco di pregiudizio verso la lettura o è non so un trauma giovanile non lo so ti hanno imposto di leggere non riesco a capirlo perché se ti interessa un argomento ci sono solo dei testi possono parlarti di certe cose ad esempio di certe esperienze spirituali approfondimenti meravigliosi parliamo ad esempio della spiritualità orientale cioè dov'è che trovi dei video non lo so si puoi trovare dei video di krishnamurti però ovviamente punto la lettura completa la cosa anche perché la lettura ti rallenta ti ferma ti focalizzi il video non so quanta gente quanti di voi si prendono un video non lo so di chi di che vi piace vi fermate fate gli appunti io quando leggo sempre una matitina e a fianco mi faccio il mio modo di segnarmi le cose i video non è che mi metto qua il video scorre via come tante cose oggi tutto scorre ma non nel senso eracliteo nel senso proprio trogloditico tutto via domani è un giorno nuovo io non mi ricordo nulla allora se i video se senti che ti colmano insieme magari tu li elabori li riascolti e proprio con la lettura è un trauma infantile va bene se no io un tentativo lo farei di approfondire alcuni testi perché alla fine di cosa parlano di quel che stiamo parlando qui magari in maniera molto o più ampia spero anche di nome però con le peculiarità di quell'autore che magari ha fatto certe esperienze certi viaggi che io non ho fatto che noi non faremo mai quindi fine del discorso lettura in un video parlavi di come una persona atea può essere più spirituale di un credente sì certo perché certi credenti sono un po non vorrei perché c'è una parola credente che fa rima semplicemente ripetono cose che gli sono state dette credi e sarai salvato poi escono trattano male moglie figli animali a lavoro sono spregiudicati desiderano arricchirsi ma in cosa credono io dico che cos'è sto credere poi una persona dice io non ho mai capito niente di tutte quelle menate delle religioni che si uccidono uno con l'altro che credono hanno dogmi strani eccetera però e quindi dice no guarda io penso di essere ateo cioè privo di quel dio che mi hanno trasmesso tentato anche perché poi trasmettono le cose molto male poi frequentate quella persona vedete i figli che ha cresciuto il rapporto che ha con la compagna col compagno quello che volete col suo cane con gli animali e vedete che c'è un'amorevolezza una leggerezza una dolcezza che è più spirituale allora il fesso che dice io credo vado a messa tutti i giorni e poi un troglodita o la persona che non ha mai visto una chiesa che non sa neanche bene da che parte si giri un vangelo ma vive veramente più vicino radicato nel non so neanche come definirla in modo umano amorevole ecco qua c'è tanta gente che è piena di dogmi di idee di convinzioni io credo io il mio dio le false religioni e poi abbiamo una società frammentata piena di ipocriti quindi sì ci sono persone che si definiscono ate perché sentono che qualcosa non torna in questa religione in queste istituzioni e sono molto spirituali poi non ti serve per certi versi la cosa importante potrei andare avanti ore ragazzi a parlare di sta cosa però mi sono ripromesso di stringere guardate che in linea di massima non serve secondo me anche secondo grandi autori giganti della storia dello spirito non serve riempirsi la testa di studi di testi sacri per entrare in profondità nelle cose più belle della vita in noi stessi conoscerci e costruire relazioni può aiutare ma vediamo anche che interpretati malissimo può far male cosa serve quella scintilla divina che è in ognuno di noi quella intelligenza che ci ha fatto vedere tante cose sentire tante cose percepire ma deve essere aperta il decidere se la apri o la chiudi è solo tua come cosa non è il testo sacro non è il prete sei tu che lo decidi e quando apri la zucca e il cuore un testo può essere utile ma può essere utile anche il sorriso di un bambino un albero una donna che ti ha fatto una carezza e ti ha amato un po' o anche una sberla di un cialtrone di un pazzo tutto può essere utile a farti capire ad aprire sempre di più la percezione questo è questo il punto poi potremmo dire tantissime cose c'è chi dice di essere ateo perché rifiuta la struttura ma in realtà ha una sua spiritualità c'è chi dice di essere spirituale ma in realtà insomma notate una cosa quanto poco parliamo di queste cose quanto viviamo di etichette io credo l'altro non ho io sono ateo due facce della stessa medaglia spesse volte due ottusi colui che crede senza aver trasformato nulla è un face c'è un ottuso ha dei timbri in testa colui che io sono ateo cosa vuol dire per certi versi perché ci sono due tipi di atei c'è colui che è uguale al credente cioè non ha pensato nulla si è solo messo sopra un'altra etichetta di stupidità poi invece c'è un ateo che ha un po più di consapevolezza dice appunto rifiuto le storie le strutture che mi sono state dette tutte quelle contraddizioni cose assurde ma poi ha una sua spiritualità ecco io mi fermo qui penso di aver dato molti spunti più che tante risposte assoluti però una cosa notiamo quante persone non parlano di queste cose ma hanno idee nella loro testa totalmente in riflesse non approfondite è un disastro perché quando parli dell'essenza della vita del mistero della nascita della morte in modo non approssimativo ma proprio abbiamo più consapevolezza di come funziona il telefonino il motore della nostra macchina o il water che di questi aspetti abbiamo più interesse di sistemare lo sciacquone del bagno sicuramente cosa importante se non va per carità ma abbiamo più urgenza di sistemare la minima cosa in casa lunghietta che parlare capire indagare leggere di cose che riguardano la nostra possibilità di essere liberi dalla paura felici centrati cos'è la morte cos'è la nascita no queste cose ma che ieri per sbaglio ho aperto il televisore da mesi mesi che dovevo guardare una cosa sono rimasto terrorizzato da cosa offrono l'inutile l'inutile ma non è neanche i danni i danni dell'inutilità assoluta c'è cose c'è addirittura una pubblicità di una nonna che parla con il figlio e dice il figlio le spiega come andare in giro a cercare i pokemon la nonna che va a cercare i pokemon porca puttana quindi seguite il vostro cuore seguite la vostra mente e secondo me sarete persone meravigliose felici non cercate i pokemon vi mando un caro abbraccio ci vediamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti